Fate uscire il vostro singolo in maniera professionale, lo promuovete, siete tutelati, ogni mese avete le percentuali, siete dei professionisti, se siete una band vi siete divisi gli account, vi arriva a ciascuno il suo e il gioco è fatto! Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, qui sempre il vostro caro Michele Maraleno, cantatore, produttore discografico indipendente, ufficio stampa dal 2016, anche formatore consulente musicale, se è la prima volta che ti imbatti in un mio video, vatti a guardare questo canale YouTube, vai nella home page, ci sono un sacco di playlist divise per argomento, distributore digitale, CI, Soundriff, Bandcamp, Spotify, se sei un musicista che si sta autopromuovendo, autopubblicando, veramente qui sei nel posto giusto, trovi un sacco di materiale utili, poi vedi nella descrizione dei video ci sono i link per i vari approfondimenti, i miei corsi, te lo consiglio. Allora, oggi un video molto importante ragazzi, perché cerchiamo concretamente di spiegare che cosa fare, con l'aiuto della mitica Lavagna ovviamente, schematizziamo il tutto, e che cosa fare se non troviamo l'etichetta e come poter assolutamente pubblicare un disco in modo professionale, ok, senza etichetta, potrei nominare il video così? come pubblicare un disco in modo professionale, ma in realtà vi voglio far vedere tutto quello di cui avete bisogno, in realtà, l'etichetta non l'avete trovata, e allora decidete di fare voi, ok? Decidete di fare voi, usiamo il pennarello nero, quindi avrete bisogno di qualcosa, di degli strumenti, dei musicisti, il kit, ecco, del musicista consapevole, avete bisogno degli strumenti che adesso vedremo in questo video. Allora, prima cosa che vi serve, volete pubblicare un disco e non avete tornato l'etichetta, lo volete fare voi per i fatti vostri, avete bisogno di un distributore digitale. Io qui consiglio sempre DistroKid, trovate lo sconto in descrizione, come so scrivere bene, DistroKid ragazzi, link in descrizione per lo sconto del 7%, perché DistroKid? Perché fondamentale vi permette di pubblicarvi in maniera molto semplice, con lo sconto pagate soltanto 25 euro all'anno, e potete pubblicare tutta la musica che volete, quindi molto pratico per musicisti consapevoli, per musicisti professionisti, ok? È inutile che state lì a cercare di risparmiare il distributore gratuito, pagate questi 25 euro all'anno, e usate lo sconto, trovate lo sconto del 7% in descrizione. Usate DistroKid, vi pubblicate, inserite la musica nei testi di Instagram, fate tutte le cose che dovete fare, vi promuovete nelle playlist, c'è una sfilza di video su DistroKid e tutte le funzioni che ha su questo canale YouTube, se non lo conoscete andate a guardare. Soprattutto, molto importante, è lo split payment, ok? Dovete, siete una band di 4 elementi, create 4 account, ok? Ognuno deve avere il suo account, e quando pubblicate la musica, pubblicate il disco, e poi vi dividete le percentuali, 25% a uno, 25% all'altro, 25%... Così i soldi, quando DistroKid vi paga ogni mese le eventuali royalties, vi arrivano automaticamente sul vostro account. Ognuno deve pagare però la quota, però ragazzi, stiamo parlando di 25€ l'anno, ok? 25€, ok? Una band professionista fa questo discorso qui, ha questo asset, prende il disco, lo pubblica su DistroKid, ogni elemento della band si fa il suo account, utilizzate tutti lo sconto, e poi fate, diciamo, vi dividete le percentuali, così, praticamente, basta inserire la mail, comunque ho fatto un video in cui lo faccio vedere, è molto semplice, vi dividete le percentuali così ogni mese ad ognuno arriva la sua parte. Voi non dovete stare lì a dividervi i soldi, arriva già tutto in automatico. Quindi, pubblicate il disco con DistroKid, il distributore vi mette in tutte le piattaforme e siete a posto. Secondo strumento, ovviamente, dovete depositare i brani. Che cosa andremo ad utilizzare? Beh, nel 2021 utilizzeremo SoundRiff, ok? Lo scriviamo in rosso, SoundRiff, perché è la cosa che più si avvicina all'arancione, che è il colore, diciamo, di SoundRiff. Secondo account, ragazzi, SoundRiff, anche in questo caso, spero di arrivarci, di scriverlo tutto e che sia leggibile. Anche in questo caso, ragazzi, ogni membro della band deve farsi il suo account. Questo è gratuito, ragazzi, gratuito. Vi scrivete, depositate le canzoni, vi dividete, anche in questo caso, siete in 4, ognuno ha il 25%. Dividete tutto, se siete una band, se poi siete un musicista, un cantautore, 100% se siete da soli, è ovvio, se siete un duo, 50 e 50. Se siete in 5, il 20%. Ok, dividete in parti uguali, ok? Ognuno deve avere il suo account, così quando ci sono dei soldi che arrivano, royalti dal diritto d'autore, tv, radio e quant'altro, incassate i soldi. Quindi, uno, DistroKid, due, SoundRiff, sempre con ognuno il suo, diciamo, account. Anche su SoundRiff vi potete dividere le percentuali. Guardate, ho fatto un tutorial all'aggiornamento su come depositare un brano su SoundRiff, aggiornato al 2021, avete tutto. Il terzo, diciamo, il terzo strumento che vi serve è anche una società che gestisce, siccome SoundRiff vi tutela, vi protegge da eventuali plagio attraverso la blockchain, utilizza SoundRiff, completamente gratuito. Vi gestisce le royalties, ok? SoundRiff raccoglie le royalties provenienti da esibizioni live, da passaggi radio, da, praticamente, passaggi in tv, dai distributori. Andatevi a vedere il mio video, come funzionano le royalties, se avete confusione. Ci sono, appunto, un musicista consapevole, si tutela anche dal punto di vista del diritto, dei diritti connessi e copia privata. Quindi vi dovete iscrivere ad una società. Abbiamo il nuovo Imaie, che fa questo genere di cose. Audiocop. Sto scrivendo veramente male. Quindi, nuovo Imaie, Audiocop. Ne dovete scegliere uno tra questi, c'è It's Right, che ne so, Get Sound, questa roba qui. Io vi consiglio, io utilizzo Audiocop, ma sto pensando di passare al nuovo Imaie. E vi fate l'account anche su un nuovo Imaie. Quindi avete la distribuzione nelle piattaforme, avete la tutela del diritto d'autore e radio e tv, avete la copia privata, i diritti connessi, che sono, appunto, altre tipologie di diritti, ma voi non volete lasciare i soldi. Quindi, avete i brani tutelati, depositati con le royalties, avete tutti gli account e siete pronti per incassare, siete pronti per distribuire, per pubblicare, con DistroKid, il distributore. Ora bisogna far uscire la canzone, diciamo, il singolo o l'album in maniera professionale. Avete tutto questo, che cosa manca? Non avete l'etichetta, quindi vi dovete promuovere voi. Quindi, promozione, scriviamolo in blu. Vi serve promozione. Serve promozione, promozione, abbiamo visto, promozione su Spotify, dobbiamo far uscire articoli. Su questo canale YouTube, ve lo ripeto, ci sono un sacco di video con argomento promozione, quindi scriviamo promozione. Ok? Promozione su Spotify, web, radio, tv, potete farlo da solo. Ok? Nella descrizione di questo video prendete il corso Musista Consapevole per imparare tutte queste cose, ci sono i tutorial passo passo, oppure, sì, Musista Consapevole, e sapete, e potete fare tutto questo, se volete approfondire. Però, la promozione è molto importante, vi serve promozione su Spotify, nelle web, sui blog, devono uscire articoli di giornale, e quant'altro, no? Vi dovete far promuovere. Poi, tutto quello che avete praticamente fatto uscire su di voi, dovete rilanciarlo sui social. Andatevi a vedere il mio corso da Spotify a vera carriera, è un corso gratuito di un'ora, lo trovate anche nell'home page del canale fissato in alto. Lì vi spiego come promuovervi, e poi come sfruttare tutto questo. Comunque, in descrizione vi lascio uno strumento fondamentale per promuovervi, è il protocollo Mao, protocollo Music Advertising Organization. Avete tutto lì, c'è l'offerta ancora a 99 euro, è tornato in offerta per il mese di agosto, quindi prendetelo, avete 5.000 playlist collaborative dove potete subito aggiungere il vostro singolo, avete 10.000 playlist con i contatti di tutti i generi musicali, quindi più di 15.000 playlist dove promuovervi nelle playlist, promuovervi su Spotify, avete tutti i contatti delle webs, in dei giornali e delle radio, avete i corsi su come scrivere un comunicato stampa e come fare per mandare una mail, chiedere una pubblicazione, ottenere la pubblicazione del comunicato stampa. C'è la mia consulenza, ci sono i miei corsi su Spotify, vincere su Spotify, Spotify Music Go, c'è una grandissima offerta, è un kit proprio per musicisti consapevoli, il protocollo Mao, prendete quello e potete promuovervi da sole, con 100 euro avete fatto. Ok? Link in descrizione del protocollo Mao con tutto il materiale per promuovervi. Quindi, avete il distributore, avete il vostro accanto su Soundriff, di copia private, diritti connessi, con una società tipo Nuovo Imaia o Audiocop, e poi protocollo Mao, facendo pubblicità interna, uno strumento che ho creato io per i musicisti, per autopromuoversi, tutto in un unico kit, e avete la promozione in questo modo, fate uscire il vostro singolo in maniera professionale, lo promuovete, siete tutelati, ogni mese avete le percentuali, siete dei professionisti, se siete una band, vi siete divisi gli account, vi arriva a ciascuno il suo, e il gioco è fatto, potete andare avanti, ovviamente, queste pubblicazioni vi servono, per poi, chiedere recensioni, far uscire articoli, condividere sui social, tutto questo lavoro, poi di promozione, deve essere affiancato ad un lavoro sui social, quindi creare contenuti sul canale YouTube, c'è il mio corso musicista pazzesco, per questa cosa, su come sfruttare le piattaforme social, e anche la parte advertising, veramente, studiate, prendete i corsi, musicista consapevole, musicista pazzesco, il protocollo Mao, il corso vincere su Spotify per Spotify, nella descrizione trovate tutti i link per approfondimenti, però, è così che si parte, cioè, in maniera ordinata, professionale, dividendovi le quote, pubblicando, promuovendo, e andando avanti, con tutto il risultato, i risultati che ottenete con la promozione, li condividete sui social, la gente comincia a vedere, cavolo, questi fanno un sacco di cose, e anche i locali cominciano a notare tutto questo movimento, allora poi vi sarà più facile trovare le date, uscite fuori, iniziate a suonare in giro per l'Italia, è la gavetta, è faticosa, ma si parte così, così è il modo migliore per creare una solita carriera, in maniera indipendente, abbiamo visto le band indipendenti partite qualche decennio fa, alla fine ce l'hanno fatta, Sanremo, dal mondo indipendente, inizia a pescare tante robe, quindi voi costruite il vostro pubblico, e poi vi fate notare, e si parte tutti dal distributore digitale, dal proprio account su Sound, dividere le quote, iniziare poi tutti i soldi che guadagnate, magari li reinvestite, vi formate, in descrizione prendete il protocollo Mao, costa solo 99 euro, è tornato in offerta per il mese di agosto, lo prendete, avete tutto, i corsi, i contatti proprio per promuovervi, i tutorial che vi spiegano passo passo tutto, più di questo ragazzi, io non so che fare, iscrivetevi a questo canale, se siete dei musicisti, i miei video vi aiutano, attivate la campanella per non perdere i prossimi video, qui dal Mara Lab è tutto, vi aspetto nei commenti, e noi ci vediamo ad un prossimo video, ciao!